Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze, Scandicci e Firenze Sud. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra Colle di Valdelsa Nord e Monteriggioni in entrambe le direzioni. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!